Due moto della polizia, la rombante Lamborghini, un camion dei vigili del fuoco, è il corteo delle persone importanti, quello che ha accompagnato Marco, dieci anni, scortato da Ronchi di Villa Franca Padovana, alla scuola Don Bosco di Mestrino, a bordo della Lamborghini Huracan della polizia stradale. Grande la felicità anche per i compagni di Marco che lo hanno atteso al cancello con le insegnanti. Un sogno per il bambino nell'ultimo giorno di scuola, prima della partenza per Genova, dove la prossima settimana dovrà sottoporsi a un delicato intervento chirurgico a causa di una malattia genetica rara che non gli permette di camminare all'ospedale Gaslini. La polizia ha accolto la richiesta dei genitori e della comunità di Villa Franca che, conoscendo le passioni di Marco, la polizia, le moto, le auto veloci, gli ha fatto il più caloroso dei Forza. Siamo tutti con te.